Grazie a tutti. Per acquistare acqua arrivano 5 nuove casette. Economia Popolare di Bari annuncia 50 esuberi in tercas e caripe e sulla carim interviene D'Alfonso. Castelnuovo, una comunità intera piange Cristina, morta a 19 anni. Regione, l'elettrodotto di Terna spacca i cittadini dei comitati e la politica. Sport Teramo Calcio, la padula carica la piazza Teramana e anticipa, potrei svincolarmi dal Parma. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. Incentivare l'approvvigionamento di acqua di qualità a basso costo, ma trasformare anche i rifiuti di plastica in una risorsa. È il duplice obiettivo perseguito dall'amministrazione comunale attraverso la giudicazione ad una ditta abruzzese del servizio di 5 casette dell'acqua che in primavera verranno collocate in altrettanti punti ad alta densità di traffico nel capoluogo Teramano. La tessera gratuita per il rifornimento potrà essere ritirata presso l'URP. I dettagli sono stati illustrati dall'assessore all'ambiente del comune di Teramo, Rudy Di Stefano. Da maggio anche a Teramo arrivano 5 casette dell'acqua finalizzate a far risparmiare le famiglie sul consumo del prodotto imbottigliato incentivando anche il recupero di bottiglie di plastica. Il progetto scelto dall'amministrazione comunale di Teramo è quello di una società abruzzese, leader nel settore Acque d'Italia che ha già posizionato i suoi erogatori su tutta la costa. Sì, da maggio partiremo con questo progetto, ne saranno installate diverse. Una a San Nicolò, una nella zona della Gammarana, una sarà lì ai giardini di Porta Madonna, poi una per la strada verso la Cona e un'altra verso Piano della Lenda. Abbiamo cercato di raggruppare chiaramente quelle zone dove c'è più afflusso di macchine. Verrà data una card ad ogni singolo cittadino, la card è gratuita, quindi il supporto card non costerà niente. Il cittadino dovrà solo inserire all'interno di questa card tramite i nostri operatori nell'ufficio comunale un credito di litri per stabilito. Il litro costa 4 centesimi e mezzo, sia liscia che gasata indifferentemente. Nel momento in cui ha attivato la propria card si può recare presso i distributori, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, prelevare senza un minimo prelievo quindi quanta acqua vuole. La cosa particolare e innovativa di questo circuito è il fatto che il cittadino dopo la prima attivazione potrà usufruire di acqua gratuita totalmente seguendo un circuito commerciale. Un esempio semplicissimo, oggi vado a prendere il pane e spendo 3 euro. Il commerciante convenzionato, in questo caso il panettiere convenzionato, caricherà in automatico 3 litri d'acqua sulla tessera del cittadino. Questo per dare modo a ogni singolo cittadino di aumentare quello che è il commercio a livello comunale ricevendo in cambio un valore aggiunto che è acqua che poi consumerà durante l'anno. Ma la cosa ancora più innovativa di questo circuito è il fatto che se ogni cittadino per tutto l'anno segue questo circuito commerciale si ritroverà alla fine dell'anno ad avere 1.000-2.000 litri d'acqua fermi nella card. E qua entra in circuito la cosa veramente particolare. Quest'acqua verrà ritrasformata in buoni acquisto da spendere sempre presso i commercianti convenzionali. Banca Tercas, Caripe e Carim sono istituti bancari in fermento in Abruzzo. Sono i piani di riorganizzazione delle strutture che preoccupano il personale e anche la politica. Da un lato l'annuncio della Popolare di Bari di esuberi per circa 50 figure professionali per le casse di Teramo e Pescara. Dall'altro il piano di chiusura delle figliari abruzzesi e molisane della Cassa di risparmio di Rimini su cui adesso interviene il governatore D'Alfonso. Il servizio. C'è interesse misto a un po' di preoccupazione ai piani alti della Banca Tercas e di Caripe per il nuovo piano organizzativo elaborato dalla capogruppo Banca Popolare di Bari che prevede un riallineamento della struttura complessiva a livello di direzioni generali degli istituti di credito. Questa operazione di riorganizzazione prevede esuberi per una cinquantina di dipendenti 30 dei quali nella sola direzione generale della Banca di Corso San Giorgio, le rimanenti in Caripe. La direzione barese ha intavolato il confronto con i sindacati ma è chiaro che all'orizzonte c'è l'uscita dei dipendenti ritenuti in sovrannumero attraverso una procedura di pensionamento anticipato come anche previsto dal contratto con il ricorso a incentivazioni e al fondo di settore finanziato dal sistema bancario. Sul fronte sindacale è un momento caldo anche quello che riguarda i 25 dipendenti abruzzesi delle filiali della CARIM, la Cassa di Risparmio di Rimini, ricompresi nel piano di ridimensionamento che porterà alla chiusura entro il 31 marzo di 11 sedi tra Abruzzo e Molise. Il governatore Luciano D'Alfonso scriverà al viceministro del Tesoro, Enrico Morando, per valutare ipotesi di riorganizzazione meno penalizzanti e quanto si è impegnato a fare questa mattina con la delegazione sindacale e dei lavoratori dell'Istituto. La banca CARIM è attualmente commissariata anche se vanta 61 milioni di impieghi annui e un aumento del 25% del prodotto bancario. Farò delle richieste ferme, rispettose e chiare, ha dichiarato D'Alfonso, che mirano a chiedere di posticipare la data di chiusura, di prendere in considerazione il mantenimento di almeno una filiale in Abruzzo e nelle forme consentite dalla legge di valutare la comprimibilità dei costi di gestione delle filiali. Saranno celebrati tra poco, le 14.30, nella chiesa parrocchiale di Castelnuovo Romano, i funerali di Cristina di Blasio, la studentessa 19enne morta per una emorragia interna all'ospedale Mazzini di Teramo, dove i genitori ieri mattina l'avevano portata d'urgenza nella disperazione. La notizia del decesso della giovane studentessa ha colpito la comunità locale che si è stretta per tutta la giornata di ieri alla famiglia di Blasio, affollando la camera ardente allestita nella chiesa, dove oggi Castelnuovo darà l'ultimo saluto a Cristina. Beffardo è il destino che ha voluto stappare alla vita la 19enne dopo che le era stata donata di nuovo con un trapianto di fegato in giovanissima età. E forse il tragico epilogo di ieri per la studentessa dell'Istituto Moretti di Roseto è legato indirettamente a questa sua condizione di salute. Il profilo Facebook di Cristina è inondato da ieri di messaggi di compagni di scuola, amici, professori, conoscenti che hanno voluto lasciare un segno di vicinanza e di affetto alla giovane scomparsa prematuramente nel fiore degli anni. L'affidamento diretto alla ditta che si occupa della raccolta del percolato dalla discarica La Torre di Teramo è legittimo. Lo sostiene l'assessore comunale Rudi Di Stefano. È una procedura d'ufficio fatta con determina dirigenziale. L'assessore all'ambiente del Comune di Teramo, Rudi Di Stefano, commenta così l'ennesimo affidamento diretto all'impresa che si occupa di raccogliere il percolato alla discarica di smessa La Torre. Guardi, è una procedura prettamente d'ufficio, tant'è vero l'affidamento è stato fatto con una determina dirigenziale, neanche con un atto di giunta. Per rifare un attimino di storia dobbiamo ricordare che questo era uno di quegli affidamenti fatti alla Teramo Ambiente. In questo caso l'affidamento è da quanto? La somma mi sembra che era 160.000 euro, non posso sbagliare perché ho questi giorni con i dati degli euro. Quindi è comunque un affidamento importante. Però il problema è che questo era un servizio che faceva prima la TEM. Quando noi abbiamo richiesto, così come prevedeva il decreto di Renzi, l'abbattimento del 5% dei costi, la TEM ci ha detto che non era più interessata a svolgere quel servizio a quel prezzo e quindi ci ha riconsegnato a noi la raccolta del percolato. È chiaro che in quel momento gli uffici si sono messi in moto per fare la gara d'appalto, ma la gara d'appalto ha bisogno dei suoi tempi, che non era prevista questa scadenza, quindi chiaramente è successo tutto all'improvviso. E in attesa, nelle more dalla gara d'appalto, ha ritenuto di fare un affidamento, anche perché il percolato comunque va raccolto, è un servizio che facciamo costantemente tutti i giorni. Di questo l'ufficio lo fa facendo un'indagine di mercato sulle ditte presenti sul territorio. In questo caso forse rimaneva anche più agevole perché è l'unica ditta presente nelle 4-5 regioni di Mitrofe. E sui tempi per la chiusura definitiva dell'impianto, l'assessore aggiunge, saranno brevissimi. I tempi sono quelli che purtroppo l'impegno previsto per la chiusura della discarica, parliamo di una somma superiore a un paio di milioni di euro. Noi abbiamo già deciso che stiamo aspettando dal governo, perché ci sono state rassicurazioni dall'onorevole Tangredi, su ciò di un finanziamento apposito per la discarica della Torre, se questo non dovesse avvenire, noi già siamo pronti a farlo comunque con le risorse nostre, perché è una soluzione roddata. Noi spendiamo attualmente di percolato circa 700 mila euro l'anno di raccolta. Basta fare una gara d'appardo, specificando nella gara che quei milioni di euro saranno pagati a stato avanzamento, quindi per una somma circa di 500 mila euro annui, ben presto capirete che abbiamo le possibilità per chiuderla e per risparmiare qualcosa. Il Comune di Teramo, alle prese con i noti problemi di bilancio sulle manutenzioni, si ritrova un bel gruzzolo da spendere per alcuni interventi delle scuole e in altri plessi comunali. Grazie all'arrivo di fondi stanziati dal cosiddetto decreto del fare, ha potuto destinare 350 mila euro inizialmente destinati alla Scuola San Giorgio per altri interventi. I dettagli in questo servizio. Grazie alla devoluzione di un mutuo, il Comune di Teramo può disporre di 350 mila euro da spendere per le manutenzioni scolastiche, ma non solo. L'assessore Rudy Di Stefano ha spiegato che il Comune aveva infatti accantonato questa somma che doveva essere destinata ai lavori di adeguamento antincendio della Scuola San Giorgio. Ma grazie al decreto del fare, questi interventi hanno avuto un altro canale di finanziamento, liberando così 350 mila euro ottenuti dal Comune con un mutuo. Con questi fondi, il Comune potrà adesso effettuare nuovi interventi di manutenzione su altrettanti edifici comunali, tra i quali il canile. Qui il Comune spenderà 50 mila euro per aumentare la sua capacità di ospitare altri animali che attualmente sono affidati a strutture private, mentre altri 140 mila euro sono stati destinati per lavori di manutenzione alla Zippilli. Ulteriori 20 mila euro andranno invece a una scuola primaria di Nepezano, dove va sbloccato un annoso problema di un'aula informatica nuova, rimasta chiusa poiché mai caolaudata. Infine, altri fondi serviranno per aprire un nuovo ufficio anagrafe a Villa Vomano. Quest'ultimo è un intervento voluto dall'assessore Mirella Marchese sulla scedio al fortunato esperimento di un ufficio decentrato a San Nicolò a Tordino. Questo servirà ad avvicinare gli uffici comunali e anche i cittadini delle zone periferiche che non saranno costretti a recarsi in centro per l'ottenimento di semplici certificati anagrafici. E adesso vediamo questa notizia curiosa e particolare. A Teramo è nato il Timbascus, il piatto dell'integrazione tra i popoli. Sarà presentato all'Expo di Milano e nasce da un progetto didattico della scuola dell'infanzia di Albentis di Teramo. Vediamo. Ho fatto un incantesimo e ho scatenato un temporale fortissimo per scolorire tutto il castello di Milaventis. Si chiama Timbascus ed è il nuovo piatto inventato e realizzato dai bambini della scuola dell'infanzia di Albentis di Teramo per presentarlo poi all'Expo di Milano. Il piatto è il frutto di un progetto illustrato questa mattina nella sede della scuola in via del Baluardo. Una nonna di una nostra sezione è venuta un giorno a scuola e ci ha parlato di questo timballo. I bambini sono stati entusiasti perché alcuni di loro conoscevano già questo piatto e giustamente lo volevano riproporre anche a scuola visto che stiamo lavorando sull'alimentazione. Quasi in concomitanza c'è stata un'altra nonna di un'altra sezione invece di una cultura diversa, un bambino marocchino, che ha portato questa ricetta del couscous. Per non fare torto a nessuno abbiamo deciso di reinventare una nuova ricetta, il cosiddetto Timbascus, mischiando gli elementi sia del nostro timballo e quindi valorizzare anche quelli che sono i prodotti della nostra terra con quelli di una terra diciamo un po' lontano rispetto a noi. Ma siamo molto curiosi di vedere cosa ne esce fuori. Cosa prevede questo progetto? Il progetto Bambini a tavola, l'abbiamo pensato, ispirati anche dall'Expo di Milano, prevede il coinvolgimento dei bambini delle tre fasce di età 3, 4, 5 anni e è stato pensato dalle maestre, che in questo sono state veramente straordinarie, è stato pensato nell'abbinare delle ricette locali e creare un piatto nuovo con la fantasia dei bambini e sotto la guida straordinaria, come dicevo, delle maestre. Ieri i rappresentanti dei comitati contrari all'elettrodotto di Terna insieme ad amministratori locali hanno alzato la voce durante il Consiglio regionale ed hanno protestato contro un'opera che definiscono inutile e dannosa per l'Abruzzo. Intorno a un tavolo tecnico un folto gruppo di cittadini consapevoli ha spiegato al governatore Luciano D'Affonso i motivi della protesta. Il governatore, dal canto suo, si è impegnato chiamando in causa Sara Gerardi, un avvocato di alta competenza in materia che riesaminerà l'intero procedimento. Vediamo i dettagli in questo servizio. Siamo al novantesimo minuto di una lunga storia che da anni fa arrabbiare indigna e continua a scuotere gruppi e comitati contrari alla realizzazione dell'elettrodotto. Ieri in Consiglio regionale, prima della discussione in aula, rappresentanti di Terna e consiglieri regionali hanno chiuso le porte tenendo fuori dal confronto i cittadini e molti amministratori locali che da anni si battono contro l'opera. Fuori, 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 fuori. Dopo un momento di protesta si decide per un confronto faccia a faccia e i cittadini possono dire la loro al governatore Luciano D'Alfonso. Stiamo parlando di un'opera che per un terzo si trova su zone ad elevato rischio idrogeologico. Quattro piloni addirittura sono su zone in frana attiva, significa che il terreno sta scivolando giù anche se lentamente. Stiamo parlando di un'opera che è stata imposta ai cittadini, non c'è mai mai stata concertazione. Allora io non ci sto a sentire un presidente di regione che mi dice che purtroppo non può far nulla perché ha ereditato questa condizione. Io voglio una politica attiva, una politica che difenda i cittadini perché noi non abbiamo colpa di trovarci in questa gravissima situazione. A dare manforte al folto gruppo riunito intorno al governatore c'è il Movimento 5 Stelle che ha presentato una lista di 21 opportunità che la regione ha per bloccare l'opera. Il Movimento 5 Stelle ha depositato la richiesta di questo consiglio straordinario con in calce una risoluzione della quale chiede l'approvazione in cui sono elencati 21 punti, 21 cose che la regione può fare, che il presidente della regione può fare. Per cui le cose si possono fare purché ci sia la volontà di andare in favore dei cittadini piuttosto che in favore di Terna. Dal canto suo Luciano D'Alfonso confessa come cittadino di essere contrario all'opera ma di averla ereditata già in stato avanzato dalla precedente amministrazione. Si impegna comunque a chiamare in causa l'avvocato Cristina Gerardi un'alta competenza in materia che, spiega il governatore, studierà gli elementi di debolezza dell'opera per vedere se è possibile revocare l'intesa. E adesso passiamo a vedere cosa strana accade a Ponte San Francesco a Teramo all'impianto di illuminazione pubblica. Si transita al ritmo della musica o è un'emissione di un avviso luminoso pur non trovandosi su un ponte levatoio. Nulla di tutto questo, solo un curioso meccanismo di contatti che dalla scorsa notte attrae gli automobilisti al crocevia tra Ponte San Francesco, via De Gasperi e via San Marino. Un gioco di luci che è stato più evidente nella notte e alle prime ore del mattino, visibile nel contrasto con l'albriggiare, molto meno durante la mattina con luce piena. Ammirata con sorpresa l'anomalia, pronta alla riflessione. È destino che il rapporto tra Teramo e illuminazione debba arricchirsi ogni giorno di qualche altra puntata di disservizio. A prescindere dallo spreco di energia e di denaro, quantunque considerevole per la grandezza dell'impianto e il numero dei punti luce, sempre più spesso la luce o manca per diversi giorni o funziona male, come in questo caso. In comune dicono che questo psichedelico evento è episodio frequente, soprattutto in caso di pioggia e su cui l'ufficio tecnico comunale sta intervenendo. Vedete. A Pescara la Polizia di Stato ha scelto la scuola di cinema per presentare il calendario 2015. La scelta non è stata casuale. Vediamo. La Polizia di Stato ha scelto la scuola di cinema IFA International Film Academy in Via Beato Angelico a Pescara per presentare il calendario 2015. Due i formati da parete e da tavola. L'iniziativa è promossa anche per l'affinità tra il maestro Vittorio Storaro, autore cinematografico di fama internazionale, vincitore di tre premi Oscar e di un David di Donatello, che ha curato la realizzazione del calendario e la scuola di cinema stessa, nelle sue premesse fondanti e negli obiettivi. Il connubio altrettanto tra il calendario e la scuola di cinematografia è evidente, per cui la Polizia di Stato ha avuto il piacere e l'onore di avvicinarsi a questa scuola di cinematografia per rendere questo dono ed evidenziare questo legame. Dal 2001 il ricavato della vendita del calendario della Polizia di Stato è destinato a finanziare alcuni appelli umanitari dell'Unicef. Complessivamente sono stati raccolti circa 1.887.000 euro e sono stati completati i progetti a sostegno dell'infanzia e contro lo sfruttamento dei minori in Cambogia, Benin, Congo, Guinea. Quest'anno il progetto indica l'emergenza umanitaria della Repubblica del Centro Africa e andrà ad incrementare gli interventi per la fornitura di trattamenti alimenti terapeutici e per l'educazione alle corrette pratiche di nutrizione di bambini e neonati e la promozione dell'allattamento al seno. Gli scatti del calendario 2015, curati dal maestro Vittorio Storare, nascono da una sua visita a una struttura romana della Polizia di Stato. Come è stata l'esperienza di parlare, raccontare questo calendario ai ragazzi? È stata un'esperienza veramente bella, di vicinanza, sia dei ragazzi alla Polizia di Stato che vicendevolmente della Polizia di Stato ai ragazzi, con significati comuni e condivisi. 60 anni di estote parati. Il motto dello scautismo internazionale ha ispirato il titolo della mostra sui 60 anni di scautismo a Teramo, che è stata inaugurata domenica scorsa e che resterà aperta fino a domenica prossima, primo marzo. Andiamo a vedere. In occasione del sessantesimo anniversario, dalla nascita del gruppo scout di Teramo, avete allestito una splendida mostra nella sala espositiva di Via Nicola Palma. Cosa troviamo? Allora, la struttura è suddivisa in tre parti. Una parte è dedicata al Masci, l'altra parte invece a noi, a Gesci, e abbiamo tutte le foto divise per branche, quindi giallo i lupetti, quindi il branco, verde, il reparto e il rosso, il clan, che sono i ragazzi più grandi. Io faccio parte del clan. Poi sotto al porticato abbiamo invece la situazione di ieri e oggi, quindi una tenda oppure una gavetta oppure tutti quegli strumenti che venivano utilizzati nel passato contrapposti a quelli che invece vengono utilizzati oggi. Gli stessi però naturalmente sono cambiati nel corso del tempo. E poi nell'ultima sala sono presenti invece un proiettore e delle sedie che, diciamo, il proiettore dà modo di vedere quelle che sono le foto che non siamo riusciti a stampare e che naturalmente è anche più bello vedere con sotto delle musiche e tutto. Un ritorno al passato per molti visitatori che rivivono, insomma, anche le loro esperienze. Sì, abbiamo avuto molti vecchi scout che sono venuti a trovarci e vediamo con piacere che lo scoutismo ha lasciato dentro di loro un segno, anche per chi l'ha fatto molto tempo fa. È bello vedere gli occhi proprio che si illuminano davanti alle foto quando si ritrovano nei momenti che per loro forse contano qualcosa nella vita. E adesso è il momento della rubrica di Giancarlo Facconi, Carta Canta. 95 è una puntata di Carta Canta. Teramo non ha trasparenza. Non è un pettegolezzo, ma è un dato di fatto. Fa parte anche di una denuncia che è stata appena protocollata da un consigliere comunale in comune, negli uffici del protocollo, chiedendo un'indagine immediata amministrativa. Perché? Perché dal 26 ottobre 2014 questo consigliere comunale, di cui non dirò il nome, detto Mimmo Domenico Sbraccia, ha chiesto le carte sulla Teramo Ambiente, sul guado di Carapollo e dal 26 ottobre 2014 non gli sono state consegnate, nonostante i solleciti anche i verbali al Sindaco Brucchi. Scrive Domenico Sbraccia nella sua denuncia. Chiede, il riconoscimento del diritto all'ottenimento della richiesta documentazione è per l'effetto l'immediato rilascio di quanto rivendicato e reclamato. L'apertura di un'indagine amministrativa interna, in ordine al mancato rilascio della documentazione richiesta, è sollecitata finalizzata, anche all'individuazione di eventuali impropri comportamenti ed annesse responsabilità. L'acquisizione in copia della relazione a suo tempo redatta dall'Avvocatura Comunale, con la quale, fra l'altro, si ribaldiva il diritto del Consigliere Comunale a poter visionare e richiedere copia della documentazione prodotta dalla società partecipata a TEAM. Il rilascio in copia della relazione di cui sopra. Una domanda al sindaco Brucchi, perché non sono state date le carte al Consigliere Sbraccia? Di che cosa ha paura l'amministrazione? Carta canta. Previsioni per oggi in Abruzzo. Al pomeriggio nuvoloso con deboli piogge, specie sui settori costieri, nevicate al di sopra dei 1250 metri. In serata e nella notte coperto con pioggia moderata, specie sui rilievi. Temperature insensibili e diminuzione. Massime comprese tra 6 e 9 gradi nelle conche, aquilane e marsicane, tra 13 e 16 gradi sulle pianure adriatiche. Venti moderati o forti settentrionali. Mare poco mosso. In provincia di Teramo al pomeriggio nuvoloso con deboli piogge, specie sui settori costieri, nevicate al di sopra dei 1250 metri. In serata e nella notte coperto con pioggia moderata, specie lungo la dorsale. Temperature in diminuzione. Massime comprese tra 9 e 12 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 12 e 15 gradi sulle coste. Venti moderati o forti settentrionali. Mare poco mosso o mosso. Apriamo con il calcio, lo dice di Teramo Calcio e della società, perché il presidente Luciano Campitelli è stato inserito dal consiglio direttivo della Lega Pro nella commissione consultiva per le riforme. Riunitosi a Milano, il consiglio presieduto dal presidente Mario Macalli ha composto la commissione al fine di coinvolgere una più ampia platea di società nella proposta e nella valutazione delle linee programmatiche che la Lega Pro intende perseguire. Insieme a Campitelli sono stati nominati altri cinque referenti, che sono Pasquale Foti, della Regina, Luca Mancini, del San Marino, Orazio Ferrari, della Pistoiese, Eugenio Guarascio, del Cosenza, Alberto Cerrai, della Lupa Roma. All'Aquila il Teramo ha confermato la sua solidità, ottenendo il sedicesimo risultato utile consecutivo e il sesto 0-0 stagionale. In trasferta al Fattori i Biancorossi hanno avuto per due volte la palla del match ball, sempre con la padura, ma il gemello del gol si è ritrovato la sfera sul destro, il suo piede debole, e ha sprecato malamente le occasioni avute. Ascoltiamola adesso la cante Biancorosso. Mi sarebbe piaciuto regalare sicuramente quei tre punti alla città, alla squadra, perché vista la partita di domenica ce li meritavamo, anche se l'Aquila comunque ha avuto le buone occasioni, però la padura deve impegnarsi a non farsi trovare in queste situazioni, nel senso di avere un handicap che è quello del destro. La padura si deve allenare col destro, perché può capitare che la domenica ti arrivi la palla, il match ball come al Fattori, e bisogna buttarla dentro, bisogna sempre migliorarsi. Al Fattori si è visto anche il dodicesimo uomo in campo, il pubblico di Teramo che si sta compattando attorno alla squadra per spingervi verso questa Serie B. È stato veramente stupendo vedere tutta questa gente che era lì per sostenerci, ma è da questa estate che loro ci stanno dietro, perché comunque ci tengono molto, e ora dobbiamo continuare così tutti insieme per un unico obiettivo. Il prossimo match è un turno che potrebbe essere fondamentale, Teramo, Spall e Pisascoli, una partita che sicuramente potrebbe decidere le sorti del campionato. È una partita importante per noi, Teramo, Spall, ecco voglio dire questo subito, e poi venerdì c'è questo big match, che è sicuramente importante per la classifica, noi scenderemo in campo con il risultato acquisito già di Pisascoli, però noi dobbiamo pensare a noi stessi e fare prestazioni, e scendere in campo con tanta cattiveria e fame. L'ultima domanda, tu sei di proprietà del Parma, che idea ti sei fatto sulla situazione della società educale? C'è gente al timone che è imbarazzante per quello che si è visto in questi mesi, perché fanno tante parole ma pochi fatti. Io sto cercando di tutelarmi tramite avvocati, se mi dovrò svincolare mi svincolerò, però il Parma è in una situazione veramente delicata. Se ti dovessi svincolare e dovesse arrivare un'offerta del Teramo, come ti comporteresti? Sinceramente ora non ci sto pensando all'offerta del Teramo, sto pensando a far volare tanto il Teramo con le prestazioni, con i gol, con le rincorse, con i recuperi su tutti i palloni. Poi quest'estate, per carità, io con Di Giuseppe, con Campitelli, un ottimo rapporto, si potrà parlare di qualsiasi cosa, però ora è in testa solo 12 finali. Due sconfitte ed un pareggio costituiscono il bilancio dell'ultimo weekend sportivo delle giovanili bianco-rosse. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo in questo riservizio. Nei campionati nazionali giovanili, le tre squadre bianco-rosse hanno raccolto due sconfitte e un pareggio nell'ultimo weekend sportivo. La Berretti ha perso 0-2 contro la Carrarese in una partita giocata comunque bene dal diavolo, nonostante le assenze importanti di De Gidio e Mancini e al cospetto di una squadra compatta che in campionato ha perso soltanto in tre occasioni. Brave e cinica la Carrarese, quindi, capace di sfruttare appieno le occasioni create. Passiamo agli allievi, che sono caduti contro la Roma per 1-0 al termine di un match giocato a testa alta dai ragazzi di Mister Olivieri e che ha visto passare in vantaggio i giallorossi alla fine del primo tempo con un rigore dubbio. Come spesso gli accade però, la giovane squadra bianco-rossa non riesce a sfruttare quanto di buono creato e così al tripice fischio dell'arbitro il risultato è rimasto di 1-0 in favore dei lupacchiotti. Infine, per quello che riguarda i giovanissimi, i piccoli diavoli hanno pareggiato 0-0 contro l'Ascoli. La partita è stata equilibrata e divertente, nonostante un episodio dubbio in area marchigiana abbia fatto gridare al rigore l'intera panchina bianco-rossa. Due, i derby nel prossimo turno, la Beretti contro il Pescara e i giovanissimi contro l'Aquila. Gli allievi invece con il Latina. Noi chiudiamo con la palacanestro perché domani è il grande giorno del ritorno a Roseto di Mahmoud Abdul Raouf. A dieci anni esatti dalla sua ultima stagione, giocata in Serie A1 con la maglia bianca-azzura, il cestista americano sarà ospite della cittadina rosetana per salutare i suoi fan e ringraziarli del sostegno ricevuto in occasione della malattia che ha colpito il figlio Ammar. Gli appuntamenti principali sono due, alle 11.30, conferenza stampa presso la Sala Giunta del Comune di Roseto e in serata all'Hotel Liberty per una conviviale in ricordo dei vecchi tempi. Questo era tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, l'appuntamento alla seconda edizione 19.15, nel frattempo vi auguro il più cordiale buon pomeriggio. Grazie a tutti.